Si erano conosciuti ad una festa di un'amica di lei, avevano allacciato una relazione che era sfociata in rapporti sessuali completi. Rimasta incinta e costretta ad abortire, la ragazzina protagonista della vicenda ha poi deciso di denunciare l'uomo, NG, un 24enne rumeno, operaio metalmeccanico con alcune pendenze giudiziarie. Il 21 agosto i carabinieri di Riccione hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'accusa e violenza sessuale su minore. Sì, diciamo che inizialmente c'è stato soltanto un atteggiamento di psicologia molto più forte chiaramente del ragazzo verso questa bambina. Costituzioni fisiche non ci sono state, soltanto nell'ultimo periodo lui aveva iniziato a minacciarla facendogli capire che avrebbe fatto del male alla famiglia della bambina. Protagonista della vicenda una ragazzina dell'est Europa all'epoca dei fatti 12enne, oggi 14enne. Nell'aprile del 2012 aveva conosciuto il 24enne ad una festa a casa di un'amica. Si erano reincontrati una prima volta casualmente, poi avevano iniziato a frequentarsi. Nell'agosto del 2012 erano usciti assieme ad un'altra coppia, prima i baci e le carezze, poi il primo rapporto sessuale a casa di lui. La relazione è proseguita fino ad ottobre, quando la ragazzina, rimasta incinta e volata nel suo paese d'origine per abortire. Rientrata in Italia nella primavera del 2013, ha incontrato nuovamente il 24enne. Lui ha ripreso a corteggiarla, dicendo di essere follemente innamorato. Un altro rapporto sessuale, a cui sono seguite le minacce del 24enne. Lei non doveva dire nulla ai genitori, che ad ogni modo vennero a conoscenza dei fatti. Lo hanno affrontato, intimandogli di lasciar perdere, altrimenti avrebbero chiamato i carabinieri. Non me ne frega niente dei carabinieri, la risposta. È stata la nonna, 73enne, a presentarsi per prima in caserma. L'8 agosto è scattata la denuncia presentata dalla madre e dalla figlia.